4 progetti per impianti sportivi, Massa partecipa al bando per ottenere oltre 2 milioni di euro. Un ufficio associato ai comuni costieri, Massa ha approvato l'atto, ora mancano Carrara e Montignoso. Due ex consiglieri comunali di Massa contro Volpi, assente e ingiustificato, faccia un passo indietro. Parco delle Appuane ha approvato un protocollo per collaborare con l'Università di Pisa. Presepe meccanico della Rocca, riaperto dopo 9 anni, preso d'assalto dai visitatori. Capodanno 2019, tutte le iniziative in programma Massa e Carrara, fuochi d'artificio a Marina di Massa. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati all'ultimo appuntamento per questa settimana con l'informazione di Antenna 3. Quattro progetti per impianti sportivi di Massa. L'amministrazione ha partecipato al bando sport e periferie per ottenere oltre 2 milioni di euro e riqualificare le strutture. Ma ce ne parla in questo primo servizio la nostra Benedetta Bianchi. Il Comune di Massa ha presentato progetti per oltre 2 milioni di euro complessivi per tre strutture sportive del territorio, approfittando del bando ministeriale Sport e Periferie, che prevede cofinanziamenti per la ricognizione di impianti sportivi, la realizzazione e rigenerazione di impianti in aree svantaggiate nelle periferie, la diffusione di attrezzature sportive, il completamento e l'adeguamento di impianti sportivi esistenti con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale. L'amministrazione comunale ha puntato sulla piscina, il campo scuola e lo stadio di Romagnano, presentando quattro progetti e la caratteristica rispetto ai precedenti bandi è che abbiamo inviato a Roma progetti esecutivi e non preliminari o studi di fattibilità, precisa l'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi. Una puntualizzazione non da poco, perché ci permette di ottenere maggiori punteggi in graduatoria, spiega. Per quanto riguarda lo stadio di Romagnano, si tratta di un progetto da 415 mila euro per la realizzazione del campo in erba sintetica necessaria a rendere l'impianto omologabile dalla Lega di Serie D. 650 mila euro è il progetto per la realizzazione di una nuova pista di atletica e riqualificazione del campo scuola comunale. I vari interventi di ripristino sulle corsie, realizzate alla fine degli anni 60, hanno modificato lo stato di manutenzione in cui versa attualmente la pista. Sono presenti distacchi, rigonfiamenti della superficie per la presenza di radici nel sottosuolo e in più punti è completamente dissestato. La pista, oggetto dell'intervento, è previsto un anno per i lavori, sarà comprensiva di un anello, aree con pedane per lanci e salti e sarà omologata le nuove prescrizioni FIDAL, con la possibilità di ospitare altri campionati e eventi del calendario federale e meeting nazionali. Infine due progetti riguardano la piscina di Viale Roma, 460 mila euro per la rigenerazione e il ripristino, rifacimento, rivestimento e pavimentazioni in lotto 1 e altri 795 mila del secondo lotto per la copertura telescopica della vasca esterna, in modo da utilizzarla anche nei mesi invernali. Un totale di 2 milioni e 320 mila euro. È un segnale importante sotto il profilo della sistemazione degli impianti sportivi, commenta l'assessore Guidi. È un primo step sulle strutture maggiori, Poi con risorse nostre metteremo mano anche i campetti dislocati sul territorio, nelle periferie. Approvato a massa l'atto per la costituzione di un ufficio associato dei comuni costieri per incrementare la partecipazione ai bandi europei. Ora si aspetta che anche Carrara e Montignoso facciano questo passo. Giulia Baldino Nella scorsa seduta di giunta dell'amministrazione massese è stato approvato l'atto che prevede la costituzione di un ufficio costiero associato per tutti i comuni della costa puana. L'intenzione promossa dalla giunta massese è appunto quella di produrre una convenzione tra i comuni di massa, Carrara e Montignoso per incrementare la partecipazione dei tre enti ai bandi emessi dalla comunità europea. Finora la partecipazione degli enti locali ai bandi europei non è stata all'altezza di attrarre sufficienti fondi sul territorio puano, afferma Andrea Cella, assessore alle politiche comunitarie. Con questo atto mettiamo nero su bianco l'intenzione di fare sistema per migliorare la progettazione e per portare finalmente nuova linfa al territorio. Ora è necessario che anche le amministrazioni di Carrara e di Montignoso facciano lo stesso passo con una delibera di giunta per poi discutere e arrivare ad approvare una convenzione ufficiale. È priorità di questa amministrazione potenziare gli uffici preposti alle politiche comunitarie spiega l'assessore al personale Nadia Marnica per migliorare le capacità attrattive dei fondi regionali e europei. Anche l'assessore al sociale del Comune di Massa, Amelia Zanti, commenta positivamente la decisione. I fondi europei sono risorse importanti per finanziare progetti a livello locale potenziare l'europrogettazione nelle amministrazioni comunali è fondamentale. Spero che la richiesta di stipulare una convenzione tra i Comuni di Costa venga accolta, una sinergia che porterà benefici a tutti. Due ex consiglieri comunali di Massa contro Volpi. La causa sarebbe la sua essenza ai consigli comunali, irresponsabile. Faccia un passo indietro. Ancora Giulia Baldino. Due ex consiglieri comunali, Giancarlo Casotti e Andrea Offretti, lanciano una critica all'ex sindaco di Massa, Alessandro Volpi. Secondo i due, da quando Volpi non veste più la fascia da sindaco, non si sarebbe più presentato ai consigli comunali, mettendo in difficoltà il suo partito, il PD, che di fatto si trova all'opposizione con un uomo in meno. Casotti e Offretti definiscono Volpi non giustificato da sei mesi e accusano l'ex sindaco di irresponsabilità. La stessa irresponsabilità di cui Volpi accusava i consiglieri quando mancavano ai consigli. Molte volte, ricordano Casotti e Offretti, Volpi convocava i consigli anche il 31 dicembre e ci chiamava i responsabili se non partecipavamo. Oggi è assente. Chi è ora l'irresponsabile? Abbiamo letto, continuano i due, che sta valutando il da farsi, ma sono passati sei mesi. L'attività di consigliere evidentemente non gli interessa. Allora faccia un passo indietro e permetta a chi ha ancora voglia di fare politica e di impegnarsi di farlo apertamente. Si dimetta perché oggi è lui l'irresponsabile. Ed ora la cronaca. Controlli straordinari ad Aulla da parte della Polizia di Stato, in particolare negli snodi del trasporto pubblico e nei luoghi degradati. Arrestato marocchino per spaccio di stupefacente, ma tutti i particolari li vediamo nel servizio. Nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio organizzati dalla Questura di Massacarrara in occasione delle festività natalizie di fine d'anno insieme a Carabiniere e Guardia di Finanza, nel pomeriggio di ieri e stamani sono stati compiuti controlli nel comune di Aulla. L'attività operativa, che ha visto impegnati 25 operatori della Polizia di Stato, fra i quali appartenenti all'ufficio investigativi, alla Polizia Ferroviaria e al Reparto Prevenzione dei Crimi e Differenze, si è svolta in particolare nei capoline del trasporto pubblico, alla stazione ferroviaria, sulle principali arterie di viabilità ordinaria e in luoghi di aggregazione. In totale sono state identificate 127 persone, 62 stranieri, 36 delle quali sono risultate gravate da precedenti di polizia per reati in materia di stupifacenti e contro il patrimonio. Sono inoltre stati controllati 45 veicoli. Nel pomeriggio di ieri, all'interno di un esercizio pubblico, un uomo poi risultato di cittadinanza marocchina è apparso ingiustificatamente nervoso. Insospettiti da un tale comportamento, gli agenti della Polizia di Stato hanno deciso di approfondire il controllo, constatando che stava occultando quattro dosi di cocaina per quasi 3 grammi e possedeva un'ugente somma di denaro, circa 700 euro, provento dell'attività di spaccio. La perquisizione successiva domiciliare ha inoltre consentito di rinvenire ulteriori dosi della stessa sostanza per quasi 7 grammi e di hashish per quasi un grammo. All'esito degli accertamenti, l'uomo è risultato gravato da numerosi precedenti per droga e contro il patrimonio ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Nella mattinata odierna si è svolta l'udienza in tribunale, è stato convalidato l'arresto e all'uomo è stato imposto il diveto di dimora nella provincia di Massacarrara in attesa del processo per direttissima che si svolgerà già all'inizio dell'anno nuovo. Nel frattempo, sempre stamani, il personale della Polizia di Stato delle vicinanze del capolinea degli autobus di Aulla ha proceduto al controllo di un cittadino straniero anche di nazionalità marocchina il quale del tutto privo di documenti è stato condotto in questura per l'identificazione. All'esito degli accertamenti, l'uomo è risultato essere destinatario di un'espulsione come misura di sicurezza dopo la scadenza della quale aveva fatto rientro in Italia illegalmente. Pertanto, sarà deferito all'autorità giuriziaria e saranno avviate le procedure per il suo nuovo allontanamento dal territorio nazionale. Le attività di controllo straordinario proseguiranno anche degli imminenti giorni festivi e in quelli successivi continuando a privilegiare gli snodi del trasporto pubblico, i luoghi degradati e quelli anche in base alle preziose segnalazioni dei cittadini che vengono ritenuti più probabili per il compimento di reati. La Polizia stradale di Massa Carrara ha denunciato un cittadino serbo per guida senza patente e uso di documenti falsi. È accaduto il giorno di Santo Stefano quando una pattuglia della sottosezione di Pontremoli ha notato in una via una Opel Cadet con targa straniera condotta da un tipo sospetto. I poliziotti hanno fermato l'auto e il conducente un 37enne originario della Serbia ha esibuito una patente che non ha convinto gli agenti infatti si notavano i tipici simboli della contraffazione. La Polstrada oltre a denunciare lo straniero alla procura di massa gli ha pure sequestrato l'auto e la carta di circolazione lasciando così a piedi il malvivente. Grazie alla segnalazione di un cittadino all'inizio di dicembre è stato rinvenuto un fusto abbandonato in via Prade nell'area del Fosso Colatore a Montignoso si tratta di un bidone contenente olio e catrame già messo in sicurezza. Gli uffici infatti si sono attivati già dal 4 dicembre scorso tramite comunicazione ad Ersu. L'azienda è intervenuta immediatamente avvolgendo il fusto con un sacco di rifiuti speciali e inserendo una targa con l'indicazione del contenuto. Purtroppo viste le attività intensive che gli operatori hanno dovuto affrontare in questi giorni di festività e vista la difficoltà di ritiro e trasporto all'interno di quel tratto il rifiuto verrà recuperato e smaltito nei prossimi giorni. Il Movimento 5 Stelle di Montignoso approva gli interventi di abbellimento apportati alla scuola primaria di Piazza ma sottolinea che l'edificio come gli altri complessi scolastici di Montignoso da anni aspettano gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica. L'amministrazione Lorenzetti ha puntato la propria azione quasi esclusivamente sulla nuova scuola cinquale dice il consigliere Paolo Lenzetti dimenticando la necessità di interventi strutturali sugli altri plessi. Il consigliere ha espresso dubbi sulla scelta politica di concentrare circa 5 milioni di euro per la realizzazione di un'unica scuola. Avremmo migliorato la sicurezza coibentazione vivibilità di tutti gli istituti del comune e conclude con il recupero anche dell'abbandonata scuola arenella. Dopo tre mesi di gestione societaria la Massese torna in mano ai tifosi questa mattina è venuto il passaggio di quote di fronte al notaio Beatrice Davini Bertaccini il maggiore azionista Nicola Caggetti auspichiamo che le quote possano passare prima possibile ad imprenditori seri che abbiano esperienze e potenzialità tali da portare la Massese e i suoi tifosi in palcoscenici degni dei suoi colori hanno commentato gli Ultras approvato un protocollo di intesa tra il Parco delle Alpi Apuane e il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa l'obiettivo è quello di valorizzare le Alpi Apuane e la loro biodiversità ce ne parla Giulia Baldino sviluppare le conoscenze naturalistiche per valorizzare e tutelare la biodiversità delle Alpi Apuane è l'obiettivo del protocollo di intesa tra il Parco delle Alpi Apuane e il Centro Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa che è stato approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con una votazione il protocollo avvia una collaborazione tra i due enti con lo scopo di ideare e realizzare progetti di studio di ricerca e di valorizzare i beni culturali presenti sul territorio particolare attenzione sarà data alle iniziative che favoriscono la conoscenza e la fruizione del patrimonio animale delle Alpi Apuane l'accordo infatti prevede che ci sia un particolare impegno nel campo scientifico e nella didattica naturalistica presso le strutture museali come il Museo della Fauna di Ieri di Oggi di Bosa a Careggine di Lucca e l'Apuangeo Lab di Equiterme di Fivizzano a Massacarrara mentre il Museo di Storia Naturale si impegna a mettere a disposizione del Parco le proprie competenze scientifiche inoltre il centro doveva impegnarsi nello sviluppo di studi e ricerche sul territorio delle Alpi Apuane con l'obiettivo di progredire nella conoscenza zoologica ed ecologica della zona implementando anche le occasioni di fruizione dell'area come convegni escursioni stage workshop tesi di laurea o dottorati di ricerca 2018 da record con oltre 15.000 visitatori il 2018 è stato un anno di grande successo per i musei del comune di Carrara che sono stati visitati complessivamente da più di 15.000 persone il dato è aggiornato al 27 dicembre al Museo del Marmo il numero dei visitatori ha raggiunto la cifra record di 5.488 persone la più alta degli ultimi due anni ma grandi numeri anche per il centro arti plastiche il Carmi il Museo Carrara e Michelangelo si tratta di numeri davvero importanti anche perché rappresentano il primo indice di riscontro positivo da parte del pubblico ha commentato soddisfatta l'assessore a cultura e turismo Federica Forti presepe meccanico della Rocca tantissimi visitatori che in questi giorni hanno preso d'assalto il presepe riaperto dopo 9 anni vediamo proprio insieme le immagini che sono state girate in questi giorni di festa da un nostro telespettatore affezionato Stefano Ferraro dopo 9 anni il presepe meccanico della Rocca a grande richiesta e per la gioia di grandi e piccini è tornato sono già un migliaio di visitatori che in questi giorni di festa hanno preso d'assalto il presepio nel salone della chiesa della Madonna del Carmine sulla strada che porta al castello Malaspina uno spettacolo da altri tempi animato da oltre 50 meccanismi ed effetti speciali con alcune innovazioni rispetto alla precedente esposizione c'è il sole che tramonta lasciando spazio alla notte e alla luna c'è il susseguirsi delle quattro stagioni le fasi meteorologiche con il temporale la pioggia e la neve i personaggi che danno vita a quello che per anni è stato uno dei presepi più caratteristici di massa e tanto amato dai cittadini come i pastori che si muovono lentamente le lavandaie che lavano i panni nel fiume e la natività c'è anche la volta celeste con le stelle e le costellazioni visibili nell'emisfero rese possibili grazie alla collaborazione degli astrofili massesi l'intero ciclo giornaliero insomma della durata di circa 5 minuti per 35 anni salire fino alla chiesa del Carmine e dare un'occhiata al presepe meccanico della Rocca è stata una tradizione che ha attirato moltissimi visitatori da ogni parte della provincia il sito fu chiuso nel 2009 quando fu danneggiato il tetto della parrocchia di San Rocco e San Giacomo e la struttura diventò inagibile da qualche tempo però i lavori di consolidamento allo stabile sono terminati la chiesa è stata riaperta i presepisti si sono resi disponibili ad ammodernare il paesaggio meccanico all'impegno dei presepisti alla disponibilità di Don Luca si aggiunge il patrocinio del comune di massa il presepe resterà aperto ad ingresso gratuito con una libera offerta il 30 dicembre il 6 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 e 30 alle 18 mentre nei giorni feriali compreso il 1 gennaio 2019 l'apertura avverrà solo il pomeriggio con orario 15 e 30 18 ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità a tra poco per la prima volta la veranda sul mare sole mare trasparente pranzi in veranda o all'interno il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena a disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione il ristorante con la sua meravigliosa veranda sul mare si presta a cerimoni matrimoni cresime comunioni battesimi e compleanni anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci franco ed elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa con menù personalizzati a partire da 20 euro la veranda sul mare all'interno del bagno stefania lungomare levante 56 marina di massa telefono 338 756 27 74 aspetta che cos'è che devo dire ora sì perché l'offerta è varia più solo e tantissime altre offerte su misura per te sempre prepariamoci insieme per creare l'atmosfera perfetta prepariamoci insieme per creare l'atmosfera perfetta ok luci alberi con potenza termica 7 no abbiamo riservato offerte strepitose è 99,90 99 tonni quindi aspetta mi fermo qui dentro esco di là o di qua e per dare calore no per dare più calore dove auguri 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 e non finisce qui dal primo dicembre al 31 dicembre Pietrasanta è la città del Natale è la città dello shopping e dei mercatini a tema più belli della Versilia è musica e concerti presepi e proiezioni spettacolari è eventi arte e cultura con i suoi celebri musei e la mostra di Romano Cosci e ci sono anche Babbo Natale e gli Elfi del Bosco e per Capodanno tutti in Piazza Duomo a festeggiare il nuovo anno dall'1 dicembre al 31 dicembre Pietrasanta ti aspetta ti aspetta manca ormai pochissimo a Capodanno due giorni vediamo quindi quali sono tutte le iniziative in programma Massa e Carrara per la prima volta la città di Massa saluterà il nuovo anno con uno spettacolo pirotecnico dal pontile di Marina di Massa secondo l'amministrazione infatti la costa non può e non deve vivere solamente nei mesi estivi iniziative come questa possono ripetersi nei prossimi anni ha commentato il sindaco Francesco Perziani perché la nostra città ha bisogno di eventi di vivere di migliorare il target e la scelta di Marina di Massa non può che essere attrattiva ed attraente i festeggiamenti inizieranno alle 23 con un DJ set in Piazza Betti a seguire lo spettacolo pirotecnico e a mezzanotte e un quarto la band The Music Box intratterà il pubblico con un viaggio tra le musiche pop dagli anni 70 a fine giorni nostri i commercianti resteranno aperti particolarmente soddisfatto anche il presidente del CCN Giacomo Nunziati molti proprietari di seconde case nella nostra zona hanno fatto sapere infatti che sapendo dell'evento sceglieranno Marina di Massa per festeggiare l'ultimo dell'anno Alteria e DJ Jad sono invece protagonisti del concerto organizzato dal comune di Carrara realizzato da altri eventi per la notte più lunga dell'anno il 31 dicembre la festa d'ingresso libero inizierà alle 22.30 sul palco in via Venezia Marina di Carrara ad aprire la serata l'esibizione dei tre vincitori del concorso riservato a giovani band e cantanti solisti i Lagnachea Jazz Band Raquel Evangelisti e Norma Duchi Alteria è nota per la conduzione di programmi musicali DJ su tutto il territorio nazionale aperto i concerti degli Aerosmith e dei Red Chili Pepper e sarà un vero e proprio show quello che regalerà al pubblico DJ Jad fondatore con J-AX degli articolo 31 sarà possibile seguire il countdown per salutare il nuovo anno su un maxischermo al lato del palco a mezzanotte verranno lanciati 2000 bracciali luminosi sotto una pioggia di coriandoli colorati e andiamo a scoprire i dettagli della festa di Capodanno di Massa con l'intervista Maria Graziadati vicepresidente del CCN di Marina di Massa a spasso per la costa quest'anno abbiamo deciso di fare insieme all'amministrazione i fuochi a Marina di Massa il CCN come faceva durante l'estate ha voluto proporre il Capodanno 2019 sia per i nostri residenti cioè i nostri massesi ma anche per il turismo visto che quest'anno Marina di Massa è stata veramente pulita dall'amministrazione abbiamo deciso anche di vestirla a festa oltre a fare i fuochi che verranno fatti appunto sul pontile di Marina di Massa ci sarà anche la festa di saluto al 2018 e ringraziamo per questo evento in primis il nostro sindaco Francesco Perziani il nostro vice sindaco Guido Mottini e non per ultima perché ha contribuito molto anche lei la nostra assessora alla cultura Eleonora Lama oltre all'amministrazione possiamo ringraziare anche le nostre associazioni come partnership durante tutta la stagione che è l'Age Park gli albergatori e i balneari i quali balneari hanno contribuito anche all'illuminazione del pontile caricatore di Marina di Massa che poi dove verranno fatti i fuochi la nostra manifestazione inizierà alle ore 23 e 55 e saranno circa 10-15 minuti di fuochi per dare l'addio e il saluto al nuovo anno naturalmente ricordiamo che la festa in piazza inizierà prima dei fuochi nelle prime serate e si concluderà alle ore 3 vorremmo ringraziare soprattutto anche le cantine bosca che sono state una parte del nostro sponsor di tutta la manifestazione sono delle cantine famose in tutto il mondo addirittura hanno il marchio dell'UNESCO quindi sono per la loro bellezza e per la loro anche garanzia del prodotto e quindi hanno voluto contribuire quest'anno alla nostra iniziativa ringraziamo tutti e soprattutto ringraziamo i nostri commercianti del CCN di Marina di Massa a spasso per la costa siamo arrivati alla rubrica degli auguri quindi andiamo a scoprire chi festeggiamo e ancora tanti cari auguri di buon compleanno al nostro prezioso Simone la polizia di Carrara diffonde per informazione le modifica la viabilità che ci saranno durante la serata di capodanno dalle 8 di domani quindi domenica 30 dicembre fino alle 10 del primo gennaio vigia il divieto di sosta in via Venezia al lato mare a partire dalle 14 del 31 dicembre invece il divieto di sosta sarà vietato anche in via Genova via Piazza Ingolstadt e via Rinchiosa in queste ultime sarà vietato anche il transito così come in via Venezia fino alle ore 10 del primo gennaio lunedì 31 dicembre gli uffici master e la pesa pubblica rimarranno chiusi al pubblico l'attività ripartirà regolarmente mercoledì 2 gennaio anche nella notte del 5 gennaio la Befana tornerà a percorrere le strade di Montignoso per portare il suo dono la promessa della fine dell'inverno e il ritorno della luce e dell'abbondanza non mancherà la tradizionale mascherata per le strade del borgo quest'anno la proloco di Montignoso e il borgo incantato hanno deciso in perfetta sintonia con l'amministrazione comunale di aggiungere al tradizionale premio per il gruppo di maschere più bello altri due premi uno destinato al gruppo che meglio avrà incarnato l'idea della Befana Montignosina uno destinato ad un gruppo comunque bello ed interessante ad unico insindacabile giudizio della giuria i premi saranno per il gruppo che meglio avrà incarnato la Befana una cena in un locale Montignosino con menù incentrato sulla tradizione premio della giuria 5 metri di salsicce i gruppi per poter concorrere all'assegnazione dei premi dovranno sottostare senza eccezione alcuna a due uniche condizioni registarsi prima dell'inizio della festa depositando il nome della guida e il numero dei componenti del gruppo e visitare tutte le famiglie che offriranno la loro ospitalità alle maschere e con questa notizia ci salutiamo siamo arrivati infatti alla fine del nostro telegiornale vi lascio in compagnia di Paolo Lunini e della rubrica dall'interamente curata Meteo Weekend per tutti gli aggiornamenti buon proseguimento e rivederci a tutti il meteo è presentato da Brico Center Massa il tuo vicino di fare Buonasera e ben ritrovati a Meteo Weekend l'ultimo appuntamento del 2018 ed è proprio all'anno che si avvia la conclusione vogliamo dedicare la nostra introduzione facendo un po' un riepilogo generale dal punto di vista climatologico ebbene un anno che verrà ricordato il 2018 come tra i più caldi di sempre non solo a livello globale ma anche nel nostro piccolo sulla nostra provincia infatti le temperature registrate sono state quasi costantemente oltre la norma e dei 12 mesi 10 hanno chiuso con valori fino a un grado un grado e mezzo oltre la media trentennale soltanto febbraio e marzo hanno fatto registrare delle temperature al di sotto della media con lo ricorderete l'intensa ondata di gelo il Burian siberiano che aveva interessato la fine di febbraio e poi marzo con la nevicata fin sulla costa dei primi giorni per quanto riguarda le piogge complessivamente non si sono discostate differentemente dalle temperature e dalle medie infatti dopo la siccità estiva abbiamo avuto un buon recupero delle precipitazioni in quella autunnale e soprattutto da metà ottobre in avanti veniamo adesso alla situazione attuale andiamo a vedere lo scenario a livello europeo che è ancora dominato si nota molto bene con l'ausilio del nostro quadro sinottico da questa robusta e vasta area di alta pressione centrata sulla Francia con valori molto elevati vedete si orano i 1040 etto pascal ma che comunque influenza buona parte dell'Europa inclusa la nostra provincia infatti abbiamo avuto un periodo natalizio con tempo più primaverile che invernale non solo per quanto riguarda i cieli ma anche soprattutto per le temperature molto miti e vedremo anche nel corso della puntata che questa robusta area di alta pressione probabilmente non darà segni di indebolimento per ancora qualche giorno quindi ci traghetterà con tempo stabile fino al 2019 da segnalare però che in inverno molto spesso e non sempre alta pressione è sinonimo di sole soprattutto in alcune zone marittime che si affacciano sul terreno infatti abbiamo visto nelle scorse ore nelle scorse giornate la formazione di nubi marittime che a tratti hanno sconfinato sulla fascia costiera più soleggiato invece in montagna che risente appunto di questa alta pressione quindi l'aria umida e fredda viene letteralmente schiacciata nei bassi strati e salendo di quota è più facile trovare il bel tempo passiamo adesso alla previsione per domenica altra giornata di alta pressione prevalentemente soleggiata vedete anche dalla nostra grafica un cielo sereno o poco nuvoloso da segnalare soltanto il passaggio di velature e qualche residuo addensamento più intenso nelle prime ore soprattutto in prossimità delle apuane poi le nebbie dense foschie nelle prime ore del mattino sulla bassa lunigiana specie sulla piana di Aulla nel pomeriggio poche variazioni vedete un cielo ancora sereno poco nuvoloso al più una lieve intensificazione delle velature che transiteranno da nord verso sud ma trattandosi di nubi alte e sottili non comprometteranno particolarmente il soleggiamento le temperature saranno in lieve calo le minime del primo mattino con anche delle locali brinate nei fondovalle interni massime senza grosse variazioni ancora al di sopra delle medie comprese in pianura tra 12 e 14 gradi venti deboli o moderati da nord e nord ovest con locali rinforzi di maestrale a metà giornata e mare poco mosso lunedì 31 l'ultimo giorno del 2018 vedrà poche variazioni avremo ancora un cielo sereno poco nuvoloso per velature tuttavia soprattutto al pomeriggio inizierà l'afflusso di aria più fredda in quota e infatti la notte di San Silvestro potrà essere più rigida di quelle precedenti con anche un rinforzo dei venti di tramontana nelle zone esposte i primi giorni del 2019 vedranno ancora un contesto di alta pressione quindi non sono attesi peggioramenti con precipitazioni però come dicevamo continuerà l'afflusso e anzi si intensificherà l'aria più fredda in arrivo da est e quindi avremo un'ulteriore diminuzione che si porteranno su valori sicuramente più consoni alla stagione invernale rispetto a quei limiti di questi giorni saranno pertanto possibili delle gelate notturne e delle massime che difficilmente supereranno in pianura i 10 gradi questa comunque è ancora una tendenza quindi necessita di tutte le conferme del caso e vi consiglio di seguirle consultando il nostro sito www.meteoapuani.it l'appuntamento con le previsioni finisce qua vi auguro a tutti voi telespettatori una buona serata un buon fine settimana ed anche un buon anno nuovo il nostro appuntamento con Meteo Weekend torna infatti venerdì prossimo 2019 il meteo è stato presentato da Brico Center Massa il tuo vicino di fare via Marina Vecchia 5 ti aspettiamo a